Tommy spinge di nuovo la faccia il tag è tagliato il tag è tagliato dai 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 eccomi qua ragazzi oggi riguardo, anzi guardo per la prima volta il match di Luca e di Tommy di ieri sabato 21 ottobre al Gidman Non Stadium dove hanno entrambi vinto per KO purtroppo non sono riuscito a vedere gli incontri perché stavo facendo lo stage qui in Spagna, adesso sono a Barcellona lo riguardo e vedrete la mia reazione in diretta prima volta a guardarlo iniziamo subito adesso c'è Luca che sta togliendo il Moncon con la Gian schiaccio play adesso eccolo qua iniziano il primo round lui Luca quasi lo fa cadere, gli tira un calcio medio ma si trattiene non so perché forse non voleva fargli qualcosa di scorretto so cold ho provato la kick sinistro non è andato a segno il tag sembra abbastanza incazzuso vuole andare avanti vuole menare stranamente vuole menare a primo round bello 1-2 hai kick però sulla spalla bello Luca controlla in cringe bravissimo mani fuori segno di controllo totale anche se siamo ancora al primo round quindi questi round non verranno giudicati non verranno nei cartellini saranno sempre i 10-10 Luca prende un pugno allo stomaco un toy tongue e gli fa il verso all'avversario il segno di non hai fatto niente il round è abbastanza di studio come sempre ma comunque di routine nei 5 round comunque Luca sta lavorando è attivo il tie scivola tira un calcio medio e scivola beh il calcio medio di Luca segno nuovo in clinch Luca spinge la testa bravo entra dentro Kau Yatsai bellissimo non che sto congelando il tie parte già con le braccia spui Luca afferra il calcio e lo fa cadere bravissimo il tie pensa di vuole vuole metterlo giù pensa di fargli male sotto Luca parte subito forte col medio e il destro round 2 mira il sinistro bello il tie cerca ancora di chiudere la distanza ha visto che ui Luca prende un bel diretto destro si incrociano il tie va a segno col diretto destro bravo Luca a perdere tempo con il prajiat per prendere un po' di fiato Luca sta lavorando bene mantenendo la distanza lo kick 1-2 di Luca segno bello il tie l'ha sentito Luca l'ha visto e sta spingendo entra in clinch Kau Yatsai bravissimo ui prende il collo ancora Kau Yatsai bel lavoro in clinch Luca si prende un gomito bello un gomito destro in faccia ancora in clinch bravo Luca posizione di parità il sinistro segno il tie continua con il low kick vuole stancarlo bravo Luca Luca finisce in posizione di dominanza in questo momento in clinch quando l'arbitro ferma ancora mi da sinistro segno di Luca ui il tie di nuovo col toy tongue sotto scambio di ginocchiate il tie con il quang Luca con con la presa al collo ancora un altro ginocchio segno bravo strano che il tie venga avanti così in fretta nei primi round forse ha visto un punto debole di Luca o ha pensato di vedere un punto debole di Luca nella sua pancia e sulle sue gambe o forse ha visto che al peso era abbastanza provato e quindi ha pensato magari è stanco dal taglio del peso Luca va a vuoto con un low kick il tie ancora con il toy tongue bravo Luca che passa le mani ancora cagliazzaio bravissimo mi da sinistro 1-2 di Luca spinge la faccia in clinch bravo Luca mi sa che si prende un altro gomito chiude il collo bravo posizione di controllo anche questa volta quando l'arbitro ferma ui high kick sinistro gomito dritto per poco non assegno e finisce qui il secondo round terzo round ui Luca subito all'attacco probabilmente Carlo Salango gli ha detto di attaccare doppio high kick assegno il tie anche lui non si fa non perde tempo non si fa intimorire ui il tie è forte con i gomiti ogni volta che Luca gli prende la testa col braccio sinistro e non controlla bene il tie gli mette il gomito destro low kick di Luca assegno jab low kick ancora questo fuori ancora i kick ma ormai il tie ha capito non capisco perché il tie continua ad andare in clinch onestamente Luca butta giù il tie completamente gli prende quasi la schiena presa il collo e lo fa cadere ormai qui penso che stava già stravencendo controlla ancora in clinch un altro kawiyatsai il tie inizia a accusare però continua ad attaccare mida di sinistro Luca controlla con il tip il tie il tie prova sempre il gomito per fortuna Luca non gli dà lo spazio di metterglielo pieno l'altro ai kick quasi assegno ma di striscio altro gomito il tie è morto qua andrà giù tra poco sicuramente kawiyatsai 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 gomito il tie è cotto è cotto scambio di gomiti dai 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 yat kapai bravo il tie non c'è più continua ad andare avanti ma ormai è cotto ti ti bravo sta ammazzando di kawiyatsai no non abbassare la testa anche Luca inizia a causare un po' la stanchezza sta spingendo abbastanza low kick low kick fuori bello gomito sinistro bello gomito destro Luca assegno con due gomiti il tie ormai si è piegato alle ginocchia di Luca altro gomito destro a salire da Luca dai 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 ancora due ginocchia dentro e va giù gomito fuori distanza da Luca paria zai Luca con i gomiti cerca di finire il tie entrambi dando segni di stanchezza ma il tie di più ah è finito il tezzolando Luca col sangue dal naso il tie continua attaccare ovviamente sta perdendo clamorosamente adesso non sentendo l'audio non capisco quanto dicono a livello di quotazione degli scommettitori quanto è la differenza ma il tie è nettamente sotto prova ancora con i gomiti prova ancora col clinch anche se non capisco perché il tie cerca di andare in clinch onestamente sta prendendo solo botte sta provando il gomito cambio di gomiti bravo Luca 1-2 di Luca 1-2 di Luca 1-2 di Luca segno pieno vuol dire che il tie sta tenendo botta più del previsto gomito sinistro di Luca yatsai diretto destro tì ancora ginocchio in clinch tì entrambi ormai stanchi vediamo se Luca riesce a controllare Luca si appoggia con la testa all'avversario altro bel gomito altro bel gomito altro bel gomito altro bel gomito tì tì oh 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 il tie dice di aver preso il ginocchio alle palle cosa dice no oh l'altro bel gomito e qui mi sa che lo finisce il tie ormai è cotto cotto è cotto è cotto andiamo vediamo vediamo il tie è tagliato il tie è tagliato dai 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 oi 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 serie di gomiti l'arbitro lo ferma non rispondeva più bravo bravo Luca bel match pulito attaccato a momenti giusti ha difeso nei momenti giusti bravo sono contento ecco sponsor che però non pagano eccolo qua ora guardiamo il match di Tommy contro l'avversario che ha battuto Luca l'ultimo match battuto il tie l'ha sentito ha fatto pure una faccia strana e qui quindi bene Tomi all'attacco arriva in clinch niente ancora il tie subito con i gomiti bravo Tommy con l'1-2 finito il primo round secondo round primo round abbiamo visto poco o niente il tie ha messo qualche colpo a segno Tommy ha messo qualche colpo a segno il tie prova ancora con i gomiti vede Tommy scoperto l'ha già tagliato? forse l'ha già tagliato sa di si Tommy è tagliato credo mi dà il sinistro a segno di Tommy 1-2 di Tommy gancio sinistro diretto destro bello non si vede ma mi sa che si è già tagliato Tommy bel tagliazzo porca troia il tie prova a infierire Tommy continua ad andare avanti bel ginocchio di Tommy mi dà il sinistro a segno di Tommy bel ginocchio destro del tie il tie prova ad infierire ma non è molto bravo ad attaccare ah bello Tommy spinge la faccia completamente posizione di completa dominanza da parte di Tommy al momento dello stop dell'arbitro bel po' di sangue che scende ancora in clinch bel ginocchio di Tommy bravo e chiude ancora scambi in clinch bravo Tommy ui Tommy gira il tie non riesce e qui il tie gli mette il ginocchio dentro clinch e lì lì parità siamo ancora solo al secondo round Tommy cerca il collo il tie spinge gomito del tie di nuovo sullo stesso punto altro gomito bloccato questa volta sangue che continua a uscire Tommy attacca scambio di Kau Yatsai middle sinistro scambi di middle sinistro anche qui bravo Tommy spinge di nuovo la faccia del tie finisce il secondo round fuck terzo round Tommy subito all'attacco presa in clinch il tie controlla middle sinistro segno di Tommy un chilo di vasellina messa da Carlos e dalla Gian all'angolo bravi hanno fermato il sanguinamento Tommy attacca con i middle sinistri ancora in clinch il tie che prova a togliere la vasellina con il guanto gomito sinistro bello del tie assegno sul mento Tommy non lo sente ancora in clinch Tommy è sopra bravo posizione di dominanza da parte di Tommy middle sinistro segno di Tommy ancora Tommy con il quang bravissimo spinge il tie quasi fuori dal ring in clinch il tie inizia a accusare la stanchezza che ha lavorato tanto per essere stato per i primi due round ha lavorato parecchio essendo avendo ferito Tommy pensava di infierire e di finirlo ma Tommy non ha mollato un colpo Tommy ancora l'attacco sembra ancora fresco middle sinistro middle sinistro tiplato e il terzo è finito in faccia è andato giù il tie doppio middle sinistro e il sinistro in faccia in serie ragazzi bom finito il tie si molla grande non me l'aspettavo questo grandi grandi anche Tommy incredulo incredulo vediamo se si vede il replay vediamo se si vede il replay minchia tre calci in serie middle middle high kick bravo 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 gliel'ho detto prima del match credi nel tuo sinistro perché c'ha un calcio sinistro davvero fortissimo carlos e la gianna ovviamente contentissimi uno segno due segno pum è il terzo sul mento sta minchia Tommy voleva mettergli anche il quarto mentre era per terra no Tommy non far cazzate bravo 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 l'arbitro si è messo in mezzo se no gli staccava la testa col quarto pum e ancora yeah bravi ragazzi purtroppo sarebbe stato bello vedervi dal vivo credo che sarei impazzito a guardare dal vivo ma che dobbiamo fare nella vita succedono sempre le cose allo stesso momento comunque bravi sono contentissimo Luca ha fatto davvero un cambiamento dall'ultimo match diciamo di maturità ancora più già comunque per avere pochi match è un fighter maturo mi ha fatto vedere ancora più maturità in questo match più determinazione e Tommy come al solito recidivo non molla mai sempre avanti e niente il Thai l'ha stancato e alla fine l'ha finito bravo bravi tutti e due e niente bravo anche Carlos che facendo le nostre veci devo dire che fino adesso ha fatto 3 su 3 3 atleti 3 vittorie 3 KO eh ragazzi mica dai ciao ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie.